Ehi, sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi è un video che è stato registrato leggermente prima di Halloween. Ma prima di visionare il video, voglio ricordare che è disponibile il primissimo piccone base di Fortnite gratuitamente nello shop di Fortnite. Basta tranquillamente, come sto facendo io adesso, riscattarlo, acquista e olè! Me l'ha appreso. Fai la tua scelta, fa parte del setto origini, equipaggio. Ovviamente ricordo che questi tipo di video sono fatti per gli abbonati al canale. Detta questa premessa, via con una buona visione. E ricordate, come al solito, inserisci il codice Pazzox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore. Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove storie. Io ho un rampino speciale. Vedo. Che entrino... Sei pronto Simone, la solita routine. Tutti voi conoscete le regole. Se le conoscete, ti beggate tutti quanti. C'è la banana che non ha ti beggato, però. Banana sai le regole? Ti begga se lo sai. A priori. Ok, ci sente, vedi. Pazzo dice saltate. Eliminato. A posto. Siamo bene. Ovviamente se io non dico pazzo dice e dico altro, la cosa non vale. Pazzo dice tutti dietro al bus. Ovviamente anche noi possiamo dirvele queste cose. Sì. Esatto. Non ci sono più giocatori, visto Simone? Niente. Sì. Sono esplositi. Me la puoi regalare adesso la pazza. Pazzo dice tutti al centro. Lo prendo io il premio se non rimane più nessuno. Pazzo dice tutti dentro un mall. Vediamo se... Non vi si deve vedere, mi raccomando. E anche un pixel devo vedere. Vengo a controllarvi, eh. Buonasera, buonasera. Che belli. Oh mio Dio, caffo. Ok. Ci sono. Pazzo dice tutti vicino al ragno. Si vede che se l'ha detto al tempo. Ne ripara niente. Tutti al centro. No, disintegra. Bravo. Eliminato. Schiappatelo. Accettate l'eliminazione e non schivate i costi. Pazzo dice tutti qui dentro con me. Una bella doccia di persone. Oh, ma che bello. Oh mio Dio. Salve. Salve. Allora, adesso vi dedico una bella canzone. Papà Castoro. Pazzo dice ti pegate là dentro. Ah, finisci con questi palloncini. Allora. Non lo faccio, devo farsi. Ho un po' di qualcosa di ricreativo. Bella. No, Angel. Pazzo dice uscite fuori. Aia. La pirai. Pazzo dice correte a caso. Pazzo dice idromassaggio. Oh, il ninja è tutto dentro. Chi non tocca l'acqua è eliminato, eh. Il ninja ce l'ha fatta. Bravo. Bravo il ninja. Pazzo dice tutti vicino al ragno. Per ora. Pazzo dice tutti dentro il bagno. Vediamo se lo capiscono. Oh no. Oh mamma mia. Ecco cosa succede. Ma è il timer. I bagni sono occupati. I bagni dell'Ikea tipo. Basta fare il giro. C'è posto, c'è posto, c'è posto. Forza. Quattro secondi, tre. Chi è rimasto fuori il gaffo anche. Mi spiace gaffo. Mi spiace gaffo. Le voglio bene. Ma, venga qui. La rotula di gualci. Signor gaffo. Eh, ci dedichi questa canzone. Grazie mille. Eh, guarda che sono entrato in due. Uno poteva entrare qui da gas mask. Ce la faceva, guarda. Poteva farcela. È la fretta. Pazzo dice, tutti sulla bara. Un po' piccola, ma... Dove l'ha visto Skull? Mi ha messo già il tempo. Ok, c'è il tempo. Bravo Skull che sei glitchato là. Bravissimo. Pazzo dice, trovate la testa di pesce secco. Questa è tosta. Vediamo quanti... A meno chi si avvicinano. 8 secondi. Qualcuno l'ha vista. 3 secondi, 2, 1. Dai, tutti si sono salvati. Gennaro, ma vogliamo anticipare che i finalisti dovranno cimentarsi nella sfida impossibile. Sì, è vero. La sfida impossibile. Tutti sulla crostate. Pazzo dice, ballate. Sta ballire. Ma che bello tenermi con quei capelli lì, tutto pazzo. Aspettate una cosa. Pazzo dice, vicino alle zucche. Qualsiasi. Pazzo dice, saltate. Ti beggate. Ti beggate. Ti accucciate la boccaccia. È solo accucciato però, non si è alzato. A meno quello. Se si alzava era un ti begg. Allora, qui bisogna togliere un po' di gente. Razzo dice al centro. Pazzo dice al centro. Maledetti. Maledetti. Pazzo dice, tutti vicino alla barra di prima. Pazzo dice, di nuovo dentro i bagni ma posto solo per una persona. Aia. Vediamo. Ti proviamo a controllare. Quello più avanti. Cioè, quello più in mezzo. Enrico, ok. Ok, manca solo un bagno. Vediamo chi è fuori. Tanto tardi. Mi spiace, ninja. Non mi banni. Ma non lo so. Qui boccaccia. Aiuto, che casino. Vedo più boccaccia dentro. Quindi penso che abbia vinto la boccaccia. Mi spiace, gas mask. E il signor Dynami. A posto. A posto. Pazzo dice, dei giovani si è appesi alla ragnatura. La ragnatela. Salvateli. Salvateli. Ah, vi spiego un po' di loro. Oh, avete rotto la ragnatela adesso. E mo' chi la paga? Chi la paga? Niente regalo. No, adesso vi spiego un po' di loro. Chi la paga? Il primo si era incastrato nella ragnatela. Il secondo per andarlo a salvare si è incastrato pure lui. Pazzo dice, sui lama gonfiabili. Sui? Lama gonfiabili. Sopra. O sulle braccia o sulla testa. Va bene lo stesso. Allora, boccaccia ce l'ha fatta. Nainami ce l'ha fatta. Sku ce l'ha fatta. Ce la potete fare, ragazzi. E' fattibilissimo. Sei secondi. Eh, sono stati furbi a mettersi davanti. Mi spiace per la bombarola. E... Avete fatto ostruzionismo. Qua ce n'è uno. Mi dispiace. Pazzo dice, ti beggate. Pazzo dice, correte! Pazzo dice, fermatevi! Pazzo dice, correte! Troppo bravi. Prendete la pistola. Dai, no? Stavi per morire! Pazzo dice, andate a farvi un idromassaggio. Dillo che lo stai facendo soltanto per il tuo personale divertimento. E' da. Ed ora andate a bagno. Skull. Non è una scena. Adesso vi tocca la sfida. È impossibile. Ovviamente, però, ve la mostro prima io, per correttezza. La sfida è molto semplice. Questa volta non è chi... Ho visto Gaffoli che... Ma signor Gaffo! Non è il primo... Poi di silenzio questi dettaplani. Via! Tornate lì. Veloci. Giudici. La sfida è semplice. Non c'è bisogno il primo che arriva, l'ultimo che arriva. Qua no. Qua conta la resistenza. Ok? Quello che vi dirò sarà quello di non cadere mai da questo oggetto. Dalla ninfa. Come fare per non cadere mai? Semplice. Non proprio. Però, iniziate da qui. Uno alla volta, eh. Vi mettete d'accordo voi. E uno fa così. Vedi? È una solita routine. Fino all'infinito. Massimo, facciamo due giri. Il primo che le fa due giri. Forza, Boccaccia. Primo giro. Dai, che ti manca l'ultimo. Dai! Boccaccia, attenzione! Boccaccia, attenzione! Ce l'ha fatta Boccaccia! Ha fatto il secondo giro. Premio, consolazione, Dynamite. Bravo al vincitore! B coast te RFS! Ho,しょう! DuLO регgelgel. Poi! Toi sei! Pare! Ho, Phil! Gianluca! Unorecco! Mediacetto! Duplo di Украї Un convegare az 하나. Di youtube! Di porte! Ti lo Canadians! Incluziamo la buried created Sui! Ciao